Il Kamishibai letto. Le dodici fatiche di Ercole. Prima fatica, il leone di Nemea. Si racconta che Ercole sia un eroe dotato di una forza sovrumana, figlio di Alcmena e di Zeus, il dio più importante dell'antica Grecia. Ercole, dopo una terribile battaglia, impazzì a causa di Hera, una divinità gelosa di lui che l'aveva colpito con un incantesimo. Nel colmo della sua pazzia, l'eroe addirittura gettò i suoi stessi figli nel fuoco. Quando tornò in sé, Ercole andò a interrogare l'oracolo di Delfi, l'oracolo delle divinità, per sapere come avrebbe potuto rimediare alle sue colpe. L'oracolo gli disse che avrebbe dovuto mettersi al servizio del re Euristeo per ben dodici anni e qui avrebbe dovuto compiere dodici fatiche. Ercole fece come gli aveva detto l'oracolo e si recò nella città di Tirinto, su cui regnava Euristeo. Il sovrano, come prima impresa, gli ordinò di uccidere il leone di Nemea e di portargli, come prova della sua vittoria, la sua pelle. Il leone di Nemea era una bestia leggendaria. Si diceva che fosse invulnerabile alle armi degli uomini. Questa creatura selvaggia terrorizzava uomini e animali e nessuno osava avvicinarsi a lui. Ercole dunque si diresse subito alla ricerca del leone di Nemea e quando lo trovò da lontano gli scagliò una freccia. Tuttavia la bestia era davvero invulnerabile alle armi e la punta della freccia andò in mille pezzi. Allora Ercole prese la sua clava di legno e corse verso il leone. La bestia, a questo punto colta di sorpresa, arretrò e andò a nascondersi in una grotta lì vicino. Questa grotta aveva due uscite. Ercole sigillò una delle due uscite con delle pietre, poi entrò e si buttò sul leone. Gli circondò il collo con le braccia e lo strinse, lo strinse fino a soffocarlo. Ed è così che morì il leone di Nemea, figlio di Tifone. Subito dopo Ercole prese sulle spalle il leone e lo riportò a Tirinto e si racconta che il re Euristeo, sconvolto per la forza di quell'uomo incredibilmente potente e vigoroso, si nascose in una giara di bronzo nei sotterranei del suo palazzo. E qui termina il racconto della prima fatica di Ercole. Grazie a tutti.